C'è la Croce, i carnellati, queste che hanno la presa, poi ci sarà il mondo delle associazioni, poi verrà la banda, un'unica sola, anche di più, eventualmente, però una sola, almeno lì si sono insieme, non so se non facciamo, qual era il film degli Fellini, che era l'orchestra, quindi ci sarà la banda, dopo la banda ci saranno le statue, poi tra le statue e il colletto, questo sarà sganciato, invece mi diceva il clero, anche il clero ovviamente non farà più, solo per evitare le distanze uno dopo l'altro, faremo doppia fila per dire, insomma, a modo che sia la partecipazione ben individuata, poi dopo il clero concludo io, dietro di me San Matteo, dietro San Matteo c'è il gruppo, come si definisce, perché la presidenza della finanza, divisa adeguata, senza anni, questa è la cosa diversa, ovviamente dopo di che ci sono il gonfalone, credo, e le autorità, e il popolo di Dio, questo è l'ordine.